Dirigente di guida, si è concluso questo anno scolastico davvero particolare a causa della pandemia, si è ripartiti però questa volta in maniera definitiva, almeno nel secondo quadrimestre. Tracciamo un bilancio, adesso che sono anche terminati gli esami di maturità. Il bilancio, considerando le difficoltà in cui abbiamo operato, è sicuramente positivo. Abbiamo avuto un'altissima percentuale di ammessi senza debiti formativi alle classi successive, abbiamo attivato dei progetti che sono partiti nelle ultime settimane, che impegneranno i nostri studenti in attività outdoor e di socializzazione. In particolare voglio segnalare che la scuola ha presentato numerosi progetti anche di carattere internazionale, come i progetti Erasmus, che consentiranno all'istituto Menneria di diventare una scuola ancora più all'avanguardia per le metodologie e per le prassi innovative. Siamo poi in fase di progettazione per tutte le azioni del Piano Nazionale di Scuola Digitale, ci stiamo preparando al meglio per affrontare il prossimo anno scolastico nelle migliori condizioni. Il risultato più straordinario che voglio segnalare è quello che abbiamo avuto per i corsi serali, che quest'anno per la prima volta hanno portato al diploma i nostri corsisti. Non solo abbiamo avuto tanti diplomati dei due indirizzi turistico, economico e sociosanitario, ma con voti altissimi, addirittura sono fioccate delle lodi ai candidati e i presidenti che si sono alternati nei lavori delle commissioni hanno elogiato la preparazione degli studenti con applausi a scena aperta e hanno elogiato anche il livello organizzativo dell'istituto Mennella. Quindi per noi era una prima volta che portavamo alla maturità gli esami di Stato degli adulti e devo dire che l'esperienza è stata straordinaria, come straordinario il riconoscimento di questi adulti verso la nostra scuola. Sono adulti che avevano voglia di imparare, di perfezionare il loro livello culturale, ci sono riusciti e ora sono pronti per affacciarsi sul mondo della formazione continua, quindi qualcuno andrà all'università o addirittura sul mondo del lavorativo. Mi riferisco in particolare a quelli che sono stati già contattati da associazioni, da enti che si occupano di servizi di cura alla persona che hanno già il contratto pronto praticamente perché il nostro titolo di studio è equipollente al diploma di operatore sociosanitario, anzi è un titolo superiore perché consente anche l'iscrizione alle scienze infermieristiche o alle scienze della cura. Quindi penso che questo risultato sia straordinario per la scuola ma per tutta l'isola perché abbiamo diplomato molti adulti che hanno perfezionato il loro livello di cultura e di cittadinanza. Cosa si aspetta dal prossimo anno scolastico? Ci sono sicuramente delle armi in più, avete provato tante altre nuove cose per adeguarvi alla pandemia, possiamo tenere le scuole aperte anche nel caso in cui ritorni il virus in maniera prepotente? Allora guardi, in realtà noi abbiamo ormai strutturato un sistema didattico che consente di operare con efficacia in qualsiasi condizione. Devo dire che abbiamo veramente esplorato tutte le possibilità didattiche, dalla didattica in presenza a quella mista, quella a distanza, quella richiesta a scuola, a casa, siamo ormai rodati per ogni emergenza. Io personalmente mi aspetto che a prescindere dalle condizioni epidemiologiche la regione Campania autorizzi alla frequenza il maggior numero possibile di studenti mettendosi in linea con quelli che sono gli obiettivi delle altre regioni italiane e degli altri paesi europei. La scuola prima di tutto e in particolare mi sento di dire che mi auguro che vengano lasciati aperti i laboratori professionalizzanti sempre dal primo all'ultimo giorno, perché è nella scuola che nascono i professionisti del domani e senza professionisti preparati il nostro paese non ha molta strada da percorrere. Quindi mi auguro che l'emergenza finisca ovviamente ma che anche se dovesse perdurare l'emergenza l'assessorato regionale ci dia la possibilità di far venire a scuola i ragazzi il più possibile e nelle modalità più articolate possibili.